Non ha battuto ciglio. Quando i giudici della corte distrettuale di Oslo hanno letto il verdetto, non ha perso il solito ghigno. Anders Bering Breivik è stato condannato oggi a 21 anni di carcere, la massima pena per il sistema norvegese, per le stragi che lo scorso anno hanno provocato 77 morti e più di 200 feriti, con l'autobomba davanti alla sede del governo nel cuore della capitale scandinava e il massacro sull'isola di Utoia. Era capace di intendere e di volere, hanno sancito i magistrati, una decisione che ha provocato enorme soddisfazione nei parenti delle vittime, ma anche nell'assassino che per questo ha deciso di non presentare ricorso in appello. Lo avrei fatto, ha poi detto, solo nel caso in cui fosse stata riconosciuta l'infermità mentale che poteva comportare l'internamento a vita in un istituto psichiatrico. Per me sarebbe stata una condanna peggiore della morte, ha dichiarato. Adesso l'estremista di destra, che anche nel giorno della sentenza è entrato in aula con il braccio teso, sarà sottoposto a una detenzione preventiva di almeno 10 anni e fino a massimo di 21. Una formula molto flessibile che permette alle autorità di prorogare la carcerazione all'infinito, anche oltre il limite massimo, fino a quando il detenuto sia considerato un pericolo per la società. In questo modo si aggirerà il fatto che il diritto norvegese non preveda l'ergastolo neppure per crimini così efferati. Contro la detenzione preventiva il condannato può però presentare ricorso ogni 5 anni.